Si è svolta questa mattina a Riva la Run 5.30, una corsa camminata con un percorso di 5,30 km con partenza rigorosamente alle 5.30 del mattino. La partecipazione è stata davvero altissima, con oltre 1.200 partecipanti che si sono alzati all'alba per fare una corsa in compagnia all'aria aperta sul lungo lago e per le vie del centro città, con partenza e arrivo al campo della Benacense. Questa prima edizione della manifestazione ha avuto quindi un grandissimo successo, superando addirittura il numero di corridori di città molto più grandi come Torino. Presenti anche molti bambini e molti anziani, nonostante la temperatura sicuramente non fresca, con 27 gradi già di primo mattino. Al termine della corsa molti hanno approfittato della calda giornata per farsi un bagno rinfrescante nel lago. Cosa ti ha spinto a partecipare? L'embrezza di provare questa avventura di correre alle 5.30 di mattina con la mia collega, ovviamente la mia cugina, i colleghi, mi hanno indotto loro, non conoscevo dell'evento e mi hanno presentato l'iniziativa e carina e loro ho deciso di partecipare, simpatico. La grinta di essere tutti insieme, anche perché mi piace l'iniziativa. Ma guarda, l'ha organizzata anche la mia ditta, quindi l'Arcese Trasporti e quindi diciamo che l'Aurora è una buona motivatrice e ho detto devo farla, poi un po' di movimento anche con la pancia si può fare insomma, è sempre una buona cosa. La camminata della mattina, è bello andare a camminare la mattina, ci vado tutte le mattine così stamattina non ho approfittato. Innanzitutto la possibilità di alzarmi stranamente molto presto, cosa che non mi capita in un sacco di tempo. E poi niente, di poter farla in compagnia con la mia compagna e tanti amici, insomma questo è poi il senso della giornata. Lei è l'organizzatrice, una delle organizzatrici di questo evento, oltre 1200 partecipanti, quindi un grande successo sicuramente come prima edizione. Sicuramente, siamo veramente molto contenti, soddisfatti. Si aspettava una partecipazione così numerosa? Io sono ottimista di natura, anche se mi dicevano che non avremmo raggiunto i 3-400, io che sono ottimista, ho detto sicuramente superiamo i 1000, però direi che anche io sono rimasto a sorpresa per il fatto di aver superato i 1200. Cosa ti ha spinto a partecipare? Perché partecipi? Ah, perché no, è una bella cosa per fare, quando piccoli, così presto, è una buona aria fresca, è una buona cosa per essere sano. La voglia di fare due parti, di Val Lago con gli amici, tutto qua. La compagnia e questo spirito mattutino di sport. E le mie amiche soprattutto. Non lo so, la novità, la novità di provare. Cosa ti ha spinto a partecipare? Beh, la voglia di camminare la mattina, che è un sogno che ho sempre avuto, è così, per capire che è bello, che bisogna, non bisogna dormire sempre, bisogna... È la prima volta che corri alle 5 e mezza la mattina? Normalmente facevo il lungo lago tutte le mattine a quest'ora, perché è il momento più bello, a parte questa logica che è la prima che fate, bellissima. È la prima volta che corri la mattina così presto? Sì, prima volta, forse l'ultimo. Penso di sì, assolutamente sì. In realtà no, io faccio passando spesso, ma con mia moglie, con mia figlia sì, la prima volta. È bravissimo, grazie mille, è una bellissima così ane. Parteciperai anche l'anno prossimo? Sì, sicuro, senza dubbio. E se lui sarà più grande, magari lui può fare con me, con il suo passagino. Hai intenzione di partecipare anche l'anno prossimo? Sì, penso di sì, è una bella iniziativa. Hai intenzione di partecipare anche l'anno prossimo? Se la fanno, sicuramente sì. È la prima volta che corri la mattina così presto? Penso di sì, sì, è una delle prime volte sicuramente. No, 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 ci vado spesso. Hai intenzione di partecipare anche l'anno prossimo? Sì, se ci sono sì. È la prima volta che corri la mattina così presto? Sì, assolutamente, sì sì. È la prima volta che corro dopo 15 anni, a quest'ora. Assolutamente sì. Mi sento di in bici, ma non alle 5 e mezza della mattina. Sì. E hai intenzione di partecipare anche l'anno prossimo? Sì, perché no? Ci sta, ci sta. E hai intenzione di partecipare anche l'anno prossimo? Perché no? Iniziativa carina, simpatica, tantissima gente, organizzata bene e quindi assolutamente sì. Mi piacerebbe sì, dovremmo farlo più spesso però. Sì, se c'è, sì, molto volentieri proprio. È una bella, bellissima iniziativa, è proprio bello vedere tutte queste persone che camminano, poi la città senza gente, è proprio bello, sì. Probabilmente sì, anzi sicuramente sì. Senz'altro, più numerose. Sicuramente, allargandola più che posso, sicuramente.